Sono Marc, appassionato di moto, ho un'azienda di disinfestazione, ormai l'unico piacere che è rimasto sulle moto. Ne ho avuti un sacco nella mia vita, le mie preferite comunque rimangono bucate, in cui ho avuto le varie serie limitate, le S o le varie R, questo quale elencarle. MV tantissimo, ho avuto anche giapponesi, ma torno sempre sulle italiane. Purtroppo sono un po' invecchiato, quindi devo passare dalle stradali alle naked perché faccio un po' fatica. Questo è quanto. Motto Argento, l'ho conosciuto guardando Instagram, sono venuto con un giorno colato con Fabio e mi ha fregato. Eccomi qua, ed è la terza moto che compro qua. Ho preso un R1, ho preso una Panigale V4S e ho messo la Street Pipe. Diciamo che la scelta, nel mio caso, in genere, ma con la fiducia che si installa con il venditore, sono abbastanza severo, nel senso che io vengo, chiedo, faccio quello che mi si dice, però se sono trattato male o poi c'è qualcosa che non va, faccio in fretta andarmene. Ecco, e forse questa mia esigenza tante volte mi spinge a cambiare fornitore. A oggi sono soddisfatto. Mi piacerebbe aver visto, mi ha fatto vedere il catalogo, i specchietti sono molto belli, il parafango posteriore in capogno mi piacerebbe, poi il portataglia, il scarico penso che sia un obbligo. Il copolino non valutiamo, non vorrei rovinare la moto. Questa moto, qualmeno si tocca, a mio parere, è migliore. Ok, l'ultimo. Un domani consiglieresti in moto argento a un tuo amico e se sì cosa gli diresti? L'ho già fatto, mi ho detto che mi sono trovato bene, sicuro che mi conoscono, che sono rompicoglioni, scusate il francesismo, li ho mandati qua. Perfetto, grazie Mark, ciao.